Sorta lungo il tracciato dell'antica via Flaminia, la città di Forum Sempronii fu fondata nel II secolo a.C., non si sa bene da quale personaggio della Gens Sempronia, forse Caio Sempronio Gracco, che fu in questi luoghi per l'applicazione della legge agraria. Il centro risulta strettamente connesso alla via Flaminia, così come i siti posti nelle vicinanze, ad esempio il recinto funerario di Calmazzo. Il Museo archeologico di Fossombrone, situato presso la Corte Alta, conserva ed espone i resti archeologici del territorio, a partire dalla preistoria passando per l'età Picena. Molto interessante è la sezione romana, dove sono esposte le numerose testimonianze della città antica, con iscrizioni, statuaria, fra cui un ritratto dell'imperatore Caligola, monumenti funerari, rilievi e poi numerosi oggetti in uso nella vita quotidiana. Fiorente, nei primi secoli dell'impero, la città di Forum Semproni fu abbandonata dai suoi abitanti attorno al VI secolo.